Ciao a tutti, io sono Barbara e io sono Lara e io sono Lollina, bentornati in una nuova puntata di Master LOL, ma chi vede arrivare? Io sono Brillollina. Ciao Brillollina, buongiorno. Ciao. È un po' timida. Buongiorno anche a Dino, buongiorno, e ai nostri giudici. Si dice giudici, vabbè allora un buongiorno anche ai nostri giudici. Allora ragazzi la puntata di oggi è molto diversa dalle altre. Veramente? In che senso? Nel senso che oggi ci sarà un pressure test. Oh, ma dai! E quindi? E quindi avranno tutti quanti lo stesso ingrediente, ma dovranno arricchirlo e creare una ricetta particolare per valorizzarlo e farlo vedere ai giudici. E quale sarebbe l'ingrediente? L'ingrediente di oggi è questo! Cos'è? Un gelatino! No, si chiama Ice Dream, ma è il mito, ma non è un gelato, è uno slime, quindi non è una cosa che si mangia. Ah, e quindi? Eh sì, ma questo è un gioco, è una trasmissione finta, quelli che assaggiano sono delle bamboline, quindi si può fare. Ah, ok, ok, l'importante è che non lo mangino i bambini a casa. No, 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 i bambini non devono assolutamente mangiarlo, infatti c'è scritto anche sulla scatola. Allora, diamo una confezione a ogni partecipante, quindi una va a Miss Baby, una va ad Alice e una va alle nostre Lil. E buon lavoro! Andiamo a vedere che cosa andano dentro le mystery box? Sì, non vedo l'ora! Dai, Lolina, cominciamo! E cominciamo da Miss Baby, ecco la sua scatolina, che carina, sembra proprio uno con la tendina, mi piace un sacco. Allora, in ogni scatolina ci sono due slime, adesso li andiamo ad aprire, li premo da sotto perché sopra c'è lo scotch, ma se li premo da sotto, escono subito. Allora, Miss Baby ha trovato un bellissimo fucsia e un stupendissimo verde. Adesso dobbiamo andare a vedere qual è il suo ingrediente della mystery box. Speriamo che sia qualcosa di bello, ti prego, ti prego! Alza, Miss Baby! Che brutto! Un ragnetto! È una tarantola! Tanti a cui! Allora, Miss Baby, devi fare la ricetta, mi dispiace, il tempo è partito e quindi quello è... troppo! Allora, cominciamo dal primo slime, questo verdolino, cristallissimo, molto cristal e molto, molto pieno di coriandolini. Wow, ti piace Lara? Sì! Bellissimo! Io avrò questo fucsia! Esatto! E invece la lattura di quello fucsia... Adesso dobbiamo... Che buon profumo che hanno! Sono molto, molto profumati e hanno dei profumi molto diversi dal solito! Che bello! lo dobbiamo proprio fare! Qui ci va il tuo simpaticissimo ingrediente e sopra... Slime! Eh, vai! Che bel pacchettino! Vado? Vai tu? Vado io? Quanto è divertente! Questo è... Lo slime al gusto ragno di Miss Baby! Vediamo che cosa è uscito fuori... Si vede! È carino! È carino! Bisogna vedere se ai giudici piacerà... Ai giudici, come dice Alice! Allora, questo è il piatto di Miss Baby! Lo mettiamo qui! Miss Baby, tanti auguri! Sì! Secondo me non ce la fa! Ed eccoci al turno di Alice! Pronta? Sì? Molto! Che belli i tuoi colori, Alice! Li andiamo ad aprire? Va bene, grazie! Guarda, Lara l'ha già aperto da sotto, appunto... E adesso andiamo a mischiarli e mettiamo i tuoi ingredienti! Che sono? Controlliamo un po' che cosa, Alice! Cosa vuoi che abbia? Mele! Delle mele! Allora, Alice, siamo pronti? Ovvio! Io mi apro il blu e là si apre l'arancione, perché è il suo colore preferitissimo! Che bello pure questo! Lo adoro, lo stradolo! Bello? Sei contenta? Sì! Ti piace? Allora, andiamo a vederci dentro quanti brillantini, coriandolini... Vado! È un po' diverso, guarda, questo è più geloso, si spezza un pochino di più... Come il mio rosa! Al tuo rosa si spezzava? Quello che avevo prima era molto più elastico, questo è un pochino più gelatinoso! Allora, Alice, siamo pronti? Qua vediamo un po' come è l'arancione... L'arancione invece è molto più elastico! Allora, mettiamolo sotto! Mettiamo le mele! Mettiamo le mele! E andiamo a mettere sopra... Il blu! Vado? Sì! Chissà che colore diventerà... Vado! Questo qui... La caramella! La caramella! Bello! Bellissimo! Ecco qui, Alice, ecco il tuo piattino! Allora, è qui... Ed ecco il tuo piatto! In bocca al lupo! Grazie! E adesso tocca le tipitine! Certo, è il turno delle tipiti e questo è il loro! Vado ad aprirlo? Dai! Allora, là sotto... Che bello! Sì, blu e verde! Uno, uno, uno... Eccolo qui, vai, Latina! Io apro il verde! E io apro il blu! Pop! Ma dobbiamo andare a vedere... Ecco, pure questo si rompe un po'. Il tuo fa... Vedi un po' se il tuo è più elastico? Sì! Si rompe? O è elastico? Lo secondo che voglio raccogliere... Vedi, il mio si rompe un pochino... Il primo era perfetto, questo è un pochino meno... Il tuo invece è più elastico, vedi? Forse vanno un po' lavorati... Allora, intanto mi allargo questo... E lo metto qui... E andiamo a scoprire qual è l'ingrediente delle tipiti! Niente! Ragazzi, non ce l'avete? No! Ma no, non vi preoccupate! È qui! È che non entrava! Questo è il vostro ingrediente! Palline! Palline di polistirolo! È bellissimo! Sono tantissime! Ma non erano così tante prima! Infatti! Alice? Eh? C'entri qualcosa? Forse! Già ho capito! Prima ce ne erano sei! Già ho capito! Allora, per fare questo esperimento dobbiamo usare già la ciotolina e ci mettiamo dentro le palline! Eccole qui! Tante tante palline di polistirolo leggerissime che andranno a infilarci dappertutto e che aspirerò con l'aspirapolvere per i prossimi sei mesi! Guardate, zuccherina, come ci si... Oh, come ci si nuota dentro! Ti piace? Sì, è bellissimo! Super arcobaleno! Unicorno! Facciamo così! Dopo vi ci riempio la piscinetta! Siete contenti? Sì! Evviva! Allora, intanto, adesso sono pure cascati un po' in giro. Siamo pronte? Sì! Allora, allardiamo bene e mettiamo le palline al centro. Più, piu, 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 piu bellissimo io lo faccio con un secchiello che dici può bastare? andiamo ancora ancora? chissà se ce la fa a berlo tutto allora cominciamo ora basta questo va qui che meraviglia è bellissima questa cosa sono super crunchy senti che rumore ragazzi aspetta avvicino la telecamera così sentite il rumore wow com'è? bello è pienissimo pienissimo senti però come cascano le palline questi li attacchiamo tutte quante e questo è il piatto delle tipitine wow e il piatto delle tipitine è pronto lo mettiamo anche lui in una ciotolina ma Alice si? vieni un attimo cosa c'è? Alice non hai ballato neanche una volta con la cucinetta impazzita ti va? si accendi grazie era molto bello ti piace? si moltissimo ma perché ti piace la musica o ti piace ballare? cosa? dicevo preferisci la musica o ti piace più l'idea di ballare? non ho capito ti piace più la musica? ah la musica si mi piace molto no ma quella della cucinetta impazzita eh? ma cosa stai dicendo? Alice come non detto ah ok guarda cosa? lo slime si Alice torna al tuo posto ci posso saltare dentro? Alice che bello Alice mettiti a posto che dovete andare dai giudici i giudici bene il tempo a disposizione è terminato e adesso è il momento del giudizio dei nostri giudici cosa c'è? giudici giudici no riprova giudici giudici no giudici vabbè ok bene andiamo a vedere questo slime sembra amalgamato abbastanza bene anche se purtroppo vedo che ci sono rimasti delle macchie di colore quindi la tua lavorazione non è stata delle migliori scusate la fretta del pressure non mi sono concentrata pezza oh peccato e allora che cosa vuoi che ti dica questo piatto era quasi quasi accettabile se non per quelle macchine di colore però vi devo dire che il ragno insomma non è che lo sai come va a finire insomma non è che possono passare ogni puntata dei ragni piu 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 guarda piu piu che devo parlare io non devi parlare tu questo piatto mi ricorda molto scantinato di mia nonna perché c'erano gli spaghetti no perché dentro scantinato di candina c'erano ragni questo piatto è ragnoso ebbene mi sa che questa prova non è andata a buon fine ma io ce l'ho dove è andato? dove è andato? no no niente niente è che tu hai detto ma e lui quando sente ma lui va vola Alice tra poco tocca a te mamma mia è brutto quello ma perché dovete fare i ragni in questa trasmissione? e adesso è il turno della nostra Alice oh guarda DG11 eh Alice sì oh guarda è slime ma che bello ci posso saltare dentro? ma veramente? sì che bello oh senti senti è divertente è proprio divertente ah che bel gioco che ho fatto è proprio bello ma ciao avete visto? cosa Alice cosa? e guarda lì ci sono dei G1G sì le avevamo visti veramente? sì ti devono giudicare il tuo slime ah sì allora G1G datemelo pure Alice questo slime è veramente variopinto sarebbe? colorato ah ok mi metto qui che sono comoda sì oh si vede il cielo guarda oh che bello vabbè noi continuiamo a parlare eh ma molanzuolo? sì perché sei lassù? perché prima ho detto ma e sono volato eh ho capito ma potresti anche riscendere perché insomma sei in cielo perché non riscendi? va bene adesso ci provo ecco molto meglio allora dicevamo questo slime è ben eseguito ben mescolato e questo profumo di mela lo rende particolarmente interessante mi piace molto sei stata brava quindi buono allora Alice questo slime è veramente interessante molto molto carino bello l'accostamento dei coriandolini la mela è sempre insomma una cosa fresca che dà vitalità molto molto bene molto molto bene brava 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 più 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 ecco anche più più ha detto che è bello grazie questo slime Alice è molto molto interessante perché questi sono colori tipici della bandiera americana quindi mi piace molto poi mela mela tipica della bandiera americana ah non è vero? eh vabbè ok però diciamo che questo slime è molto USA è molto quindi quando è una cosa USA inevitabilmente mi ricorda mia nonna ah ok grazie ah che bello una copertina di slime ah che bello ora mi addormento ah che bello guardare il cielo eh eh cosa succede? ah attento più più ah oh è caduto e siamo arrivati al turno delle tpt eccole una è una è nelle palline e vabbè e questo è il loro slime ah che bello questo slime è davvero una esplosione di colori bellissimo mi piace molto e non solo sentite giudici sentite com'è morbido guarda questo veramente slime mi piace moltissimo e soprattutto mi ricorda mia nonna veramente davvero Marianic sì mi ricorda mia nonna perché questo è typical slime meatball ah con le polpette le palline sono meatball quindi questo è slime meatball mi piace proprio tanto veramente bello cadono un po' di palline ma tanto poi Barbara passa ad aspirapolvere quindi che bello questa cosa mi piace veramente molto mettiamo posto se no Barbara poi deve cambiare sacchetto di aspirapolvere veramente molto brava queste ragazze insomma sono piccoline ma sono molto molto creative brave brave siete riusciti a fare un ottimo lavoro bene bene brave 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 questo slime è pallinoso bene bene direi che anche Crash è un pochino lapidario però è stato veramente veramente molto bravo brave ragazzi bene la lol che deve abbandonare la competizione questa volta è Miss Baby mi dispiace Miss Baby è stato un piacere perché insomma va bene effetti quella cosa con il ragno non era niente buona e noi adesso continuiamo a giocare perché adesso prendiamo gli slime che abbiamo usato per questa challenge e ce li andiamo a mischiare ulteriormente togliamo il ragno magari prima e poi ecco qui pronti e pa vi ricordo che questi slime li trovate in edicola eccoli qua la confezioncina è questa costano quanto costano 2 euro e 99 e appunto li trovate in tantissime colorazioni diverse tantissime profumazioni diverse tipo sole raggiante festa scatenata tramonto magico energia d'estate eccetera eccetera sono molto molto particolari rispetto ai profumi normali e ora siete pronte sì ciao ciao un bacio a tutti quanti ciao ciao e ragazzi vado sì sì certo certo ovvio vai sì sì vai 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 dai dai pronte sì 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 e sulle mani 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 Grazie a tutti.